Buongiorno, buongiorno e buon giovedì 3 novembre, un sorridente giovedì 3 novembre, perché il Milan, battendo 4 a 0 il Salzburgo, tornerà a giocare la Champions League dagli ottave di finale e dunque sarà protagonista anche a febbraio-marzo. Non capitava da nove anni febbraio-marzo del 2014, eliminazione dell'Atletico Madrid, come non capitava da 11 anni che il Milan vincesse il campionato. Insomma, come ha detto in maniera intelligente, giusta, totalmente condivisibile Paolo Maldini, anche in Europa siamo partiti, siamo ripartiti, perché il traguardo per Paolo Maldini non è arrivare agli ottavi, anche se era un, diciamo, saggio traguardo così che Paolo Maldini aveva indicato all'inizio della stagione, però l'ottavo di finale dopo tanti anni è un bel viatico per proseguire la manifestazione, ma certamente per il Milan, per la tradizione del Milan, la normalità è vincerla la Champions League, arrivare in finale in Champions League, non certamente arrivare agli ottavi, ma non faccio lo snob, non faccio il fenomeno, siamo contenti perché siamo arrivati bene agli ottavi. Quattro gol alla Dinamo Zagabria, quattro gol a Salzburgo, poi ne parleremo più approfonditamente parlando appunto delle pagelle. Signori, non metto la croce a belle come in occasione del match contro il Torino, qui rimangono le belle pagelle. Ma intanto a proposito di Champions League, cambio di calendario, sono tornato a casa ed eccolo qui, ottobre, era il mese scorso, la mia fotografia con mio figlio eravamo a Liverpool, pensate all'inizio di questo cammino che ci ha portato appunto a giocare, a vincere no, a arrivare secondi nel girone e quindi giocare a febbraio-marzo, poi vi dico le date e passiamo a novembre. Una bella foto sorridente di mia figlia e di mia moglie per la laurea di un anno fa di mia figlia. Rimettiamo qua il calendario, voglio ricordare le date, il Milan giocherà il 14-15 o il 21-22 a febbraio l'andata, 7-8 o 14-15 di marzo il ritorno avversari, le due portoghesi, Benfica e Porto. Per quello che riguarda le inglesi sono il Manchester City e il Tottenham, più il Real Madrid di Carlino Ancelotti e il solito Bayern-Monaco di Nagelsmann che ha detto, ah ma c'era un fallo su Giroud, per me i campioni d'Italia sono lì. Va bene, sarebbe bello incontrare anche Nagelsmann, così gli facciamo vedere che non è stato proprio un caso la vittoria del campionato perché Milan è una squadra con la sua valenza, quindi queste saranno le avversarie grazie alla vittoria per 4-0 sul Salisburgo. Una vittoria netta. A me non piace mai pensare così, però qualche voce, io penso proprio che la parida di Torino, indipendentemente da Benasser c'è o non c'è, Benasser ieri è stato mostruoso. Probabilmente i giocatori, no non probabilmente, è un'ipotesi, probabilmente nulla, è un'ipotesi, avessero la testa decisamente su questa partita, perché troppa la differenza, uno Zenit ieri, un Nadir sono il punto più alto e il punto più basso dell'universo. Nadir a Torino, Zenit contro il Salisburgo. Questo penso che sia forse la spiegazione più logica di una prestazione così brutta e così bella, quella col Salisburgo. Pioli era contento, moderatamente, intelligentemente contento, perché a me interessava passare questo girone proprio per non interrompere questa ascesa. Ha detto Paolo Maldini ieri, attenzione perché il Milan sarà una scheggia impazzita, lui ha usato la parola minavagante a febbraio, perché è una squadra dei valori, magari non molto considerata, ma vincere a Milano è molto difficile per tutti contro questo Milan e davanti a questo pubblico che anche ieri sera ha preso le lodi di Paolo Maldini, ma soprattutto di Stefano Pioli, anche dell'allenatore del Salisburgo che è rimasto incantato e sorpreso da questa comunanza. Ripeto, la differenza negli altri anni era che la Curva ha sempre sostenuto, anche i tifosi degli altri settori hanno sostenuto il Milan, ma così trascinati e uniti dalle core della Curva, grazie al gioco e l'emozione che regalano i ragazzi, non me lo ricordavo. Non me lo ricordavo di vedere cantare la canzone di Piorison Faire tutto lo stadio, di parte il coro della Curva e tutti vanno dietro battendo la mano, battendo le mani, non me lo ricordo. Complimenti dunque a noi, e sì perché anche io faccio parte del pubblico, complimenti anche a noi, ma soprattutto merito dei ragazzi e dell'allenatore e di tutto il Milan, perché siamo trascinati in queste continue emozioni. E immagino già a febbraio chissà chi sarà l'avversario. Ne parleremo magari nei prossimi video, chiedo anche a voi quale sarebbe l'avversario ideale. C'è già qualcuno che fa un po' il tronfio? Datemi il Real, Real, datemi il Bayern Monaco. Io ho un'opinione precisa, ce l'ho, ma per adesso me la tengo per i prossimi video. Ma veniamo alle belle pacelle. Tataruzan, sei e mezzo, è stato impegnato due volte con tiri abbastanza insidiosi, due respinte, una rasoterra e un'altra sempre con una bella deviazione e poi con una parata centrale. Quando doveva uscire nel finale è uscito bene, quindi Tataruzan, sei e mezzo, non mi sembra di dargli sette, non è stato mai così impegnato da compiere parate da sette. Veniamo a Kalulu. Kalulu gli diamo sette, è stato devastante ieri, soprattutto all'inizio della partita ha fermato due o tre volte gli avversari, si è riproposto esuberante, bravo, determinato, reattivo, senso dell'anticipo, spirito di corpo, spirito attaccamento alla maglia. Ma cosa si può dire in più di Kalulu? Ha giocato veramente una partita eccellente. La coppia centrale nel primo tempo, non lo dico io, anche se io l'avevo detto subito, ma l'ha detto anche Pioli a fine partita, abbiamo concesso troppo. In effetti il Milan, soprattutto nella parte centrale del suo reparto, ha forse avuto qualche incertezza. Infatti do sei a Chier, che ovviamente sta salendo di condizione, ma non è ancora al massimo della condizione, e do sei e mezzo a Tomori, che è stato, si è fatto sorprendere solo una volta, ma è stato fondamentale nella deviazione alla Ciò a Verona, sul tiro di Kiergaard, che praticamente era arrivato solo davanti a Tataruzano. Lì ho temuto il peggio. Secondo me quello lì è il momento, quel momento, l'undicesimo, è il momento caldo della partita. Mi interessa anche la vostra opinione, perché momento caldo qualcuno dirà il gol di Giroud, il raddoppio di Kronic, la chiusura della partita con l'altro gol di Giroud. Io rispetto tutte le opinioni, assolutamente, ma il possibile 1-0 per il Salisburgo avrebbe un po' complicato le cose e dato nervo e anima ancora di più agli austriaci. Quindi un 6,5 a Tomori per quel salvataggio decisivo. Migliore in campo. Io metto questo giocatore migliore in campo e chiedo scusa a Giroud, a Leao e a Benasser. Chiedo scusa. Io però l'otto del migliore in campo lo do a Teo Hernandez. Ieri ho rivisto il Teo Hernandez con il pelo lucido come un cavallo dello sceico al Maktoum prima di una corsa del festival del Dubai. Il festival si intende le grandi corse che si corrono proprio in Dubai. Ecco, ha giocato una partita trovandosi a occhi chiusi con Leao, ben servito anche da Giroud. Ha colto il palo irresistibile, divertente, spettacolare, trascinante. A me ha divertito tantissimo Teo Hernandez e quel Teo Hernandez l'avevo scoperto nell'amichevole contro il Bayern Monaco appena arrivato a Milano prima dell'infortunio alla Caviglia. un giocatore irresistibile. Veniamo a centrocampo. Sette e mezzo a Benasser. Se volete otto a Benasser. Tanto la palma del migliore in campo ho già detto che la diamo a Teo Hernandez. Non cambia il mezzo punto. Però ha giocato una partita a Benasser infinita. Perché è un regista moderno, non è un regista pensatore, basta. È un regista che pensa e corre. E si trova benissimo con Tonali 7. Tonali ha giocato una partita non devastante sul piano della spettacolarità, ma le partite che fanno spessore. Tonali ha giocato una partita che fa spessore. Si è trovato dove si è trovato bene, si è trovato a chiudere le diagonali al momento giusto. Sempre presente. Parita straordinaria anche di Tonali. Andiamo a Rebic. Sette a Rebic. Ha dato l'assist al gol Giroud che poi la passa a Kronic. Sempre presente. Begli spunti tecnici. Dribbling vincenti. In un ruolo che non gli fa impazzire. Si è sacrificato. Rebic. Sette. Ho capito perché ha messo Rebic. Pioli. Lì servivano giocatori esperti. Duri. Duri. Giocatori che sanno il valore di queste partite. Che hanno già giocato queste partite. Sette a Rebic. Diamo un sette anche a Kronic. Era parito bene. Ha un po' rallentato però il gol ha galvanizzato. un sette a Kronici. Soldatino. Ago e Fido. Sette e mezzo a Leao. Anzi diamo anche otto a Leao. Come daremo otto a Giroud. Poi ripeto. Io ho messo migliore in campo. Per mia scelta a Teo. Leao. 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 Era stato meraviglioso. Tutto il pubblico quando è uscito. Ecco la comunanza. Non solo la curva. Tutto il pubblico sotto la musica di Brasil. Brasil ha cantato Leao. 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 E deve essere meraviglioso per un giocatore uscire guardando tutto il pubblico. La standing ovation naturale. Tutti si sono alzati. Sono le standing ovation più belle. Perché tutti si alzano. Perché viene spontaneo alzarsi e applaudire. Uno mi ha detto. Una persona ieri mi ha detto. Sembrava un giocatore di Playstation. Quando io non sono un grande esperto di Playstation. Quando i giocatori guidati dal joystick che non c'entra Tomori. Se ne vanno in giro per il campo. Il gol. Il terzo gol è tutto merito suo. Ha preso un palo sfortunato. Ma Leao. Uno spettacolo ieri. Veniamo a Giroud. Giroud otto. Signori. Un assist. Quello del secondo gol. Il terzo gol e soprattutto il fondamentale gol. Venuto. Signori. Rullo di tamburi. Su calcio d'angolo. E colpo di testa di Giroud. Giocatore che non guardo solo per quello. Guardo anche tutte le palle che va a prendere. Difende col corpo. Una cosa l'anno scorso sconosciuta in questa fase della stagione. Otto a Giroud. Bene. Diamo un bel sette a Messias per il suo gol. Un bel gol. Una bella fuga. E io continuo a dire. Mi avete preso in giro. Quando ha sbagliato il gol con l'Atalanta. Ah. Cosa dice di Messias. Signori. Come Leao. Quando hanno imparato a essere davanti al portiere. Difficilmente sbagliano. Quando ho visto la fuga di Messias. La finta. E il tiro di sinistro. Ho sempre sperato molto che segnasse. I giocatori che sono entrati. Sono entrati bene. Parlo di Ballotouré. Che prende un bel sei. Vado a me. Ma Pobega. Anche lui un sei e mezzo. Sei e mezzo per Ballotouré. Sono entrati bene. È entrato bene Gabbia. Nel momento forse un po' più facile per i difensori. E quindi anche lui ha operato per il meglio. Quindi i giocatori che sono entrati. Sono entrati tutti con intelligenza e con attenzione. Lo stesso Ballotouré. Poi è uscito Calulu e ha spostato Gabbia in difesa. Prima di andare e chiudere con le pagelle di De Chetelare e di Pioli. Volevo ricordarvi di scaricare dal link in descrizione l'applicazione numero 10. Gratuita. Tutto sulle due giorni di Champions League e sulla serata di questa sera. Europa League e Conference League. De Chetelare non ha giocato un piccolo spezzone di partita. Ha provato qualche spunto. Ha provato qualche dribbling. Ha provato qualche assist senza grande successo. È un giocatore in questo momento al quale non mi sento di dare voti perché è inutile infierire su un ragazzo. Il ragazzo lo, come non ha graffiato o se preferite non ha lasciato la sua griffa. E do un bel otto a Pioli che ci ha regalato questa qualificazione che sta facendo crescere la squadra. Non ho dubbi. Ha fatto bene riassorbire la sconfitta contro il Torino. Insomma Stefano Pioli ha firmato il contratto e ha festeggiato la firma del contratto. Portando questo Milan per lui la prima volta in Champions League agli ottavi di finale. Un bel regalo che si è fatto. Uno Stefano Pioli che ha messo in campo giocatori completamente trasformati. Giocatori che hanno disputato una grande partita. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale su di Carlo Pelegati e attivate la campanella.